Spero che il PD possa ritrovare l'unità. Franco Marini apre così la giornata che poteva segnare la sua ascesa al Quirinale, una speranza che in realtà si era già infranta la sera prima in una drammatica riunione dei parlamentari del centro-sinistra che aveva sancito la spaccatura. Fuori i vendoliani, schierati per il candidato 5 Stelle Rodotà, fuori i renziani, mal di pancia diffusi a macchia di leopardo persino tra i fedelissimi del segretario che aveva concordato con Berlusconi il nome di Franco Marini. Un presidente da eleggere al primo colpo, frutto di una larga intesa, una possibilità alla quale, quando alle 10 la Camera comincia la seduta, credono in pochi. I calcoli della vigilia sono ancora favorevoli a Marini. I voti teorici erano 835, cioè PDL, Lega, Scelta Civica, PD, SEL. Con i nodi SEL, Renziani e dissensivari dichiarati, Prodiani, Veltrognani e vari, la quota era scesa a circa 700. 30 voti di margine, su quota 672, quella necessaria per l'elezione nei primi tre scrutini. Marini ce la farà, sicura Berlusconi arrivando a Montecitorio, e anche Denis Verdini, grande esperto di calcoli parlamentari, spiega che i numeri ci saranno. Per i misteri della politica, il centrodestra si mostra compatto e fiducioso per l'elezione di un esponente del PD, Franco Marini, mentre a sinistra volano gli stracci. In aula Bersani vota e si intrattiene a lungo con il segretario PDL Alfano e le foto dell'abbraccio tra i due fanno subito il giro della rete. Tra i PD si moltiplicano le dichiarazioni di voto anti Marini. Non rappresenta l'Italia di oggi, dice il candidato a sindaco di Roma Ignazio Marino. Voterò Stefano Rodotà e spero che lo facciano altri, dice l'ex rottamatore Pippo Civati. Anche la fedelissima Alessandra Moretti, portavoce di Bersani, nella battaglia delle primarie, annuncia scheda bianca. Contro Marini, oltre Renzi e Vendola, anche gli altri due concorrenti delle primarie, Laura Puppato e Bruno Tabacci. I seoi socialisti eletti con il PD si schierano con Emma Bonino e tra i montiani vengono annunciate defezioni. Sembrano sfilarsi anche i nove di Fratelli d'Italia, che alla fine però voteranno Marini. Mentre dentro e fuori l'aula si moltiplicano i conciliaboli, la prospettiva di una debacle sul nome di Marini si fa sempre più strada. Comincia lo spoglio e ci si accorge quasi da subito che Marini non ce la può fare. I voti per Rodotà sono tanti, molte le schede bianche. C'è anche l'ex sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che va forte, soprattutto tra i renziani. In aula risuona il fantasma del 2006, quando invece di Franco Marini, allora candidato alla presidenza del Senato, ci furono voti dichiarati nulli per Francesco Marini. C'è anche un voto per Valeria Marini, uno per Veroni Calario, uno per Raffaello Mascetti, il conte di Amici Miei, quello della supercazzola. Alla fine Marini si ferma a quota 521, 151 voti al di sotto dei 672 voti necessari, ma anche appena 17 voti in più di quella soglia 504 che rappresenta la maggioranza assoluta valida dalla quarta votazione. Rodotà raccoglie 240 voti, una quarantina in più della somma 5 Stelle e SEL, terzo Chiamparino con 41 voti, poi Prodi, Bolino, D'Alema, Napolitano, 104 le schede bianche. Un esito che rende già inutile la seconda votazione che inizia alle 15.30 e salvo sorprese clamorose rende inutile anche la terza prevista per domattina. Per ora PD e PDL voteranno scheda bianca. Marini è impallinato, non accadeva ad un candidato al Quirinale dai tempi della Prima Repubblica, per ora il suo nome non è più spendibile, anche se per PDL e Lega dalla quarta votazione il nome resta quello. Nel PD comincia la resa dei conti. Per la cronaca, nella seconda votazione Rodotà scende a 230 voti, dai 240 della Prima, mentre Chiamparino raddoppia i suoi raggiungendo quota 90. Domani alle 10 si ricomincia.